Ecco io questa mattina proprio ho scritto al Papa e lunedì lo vedrò per cui potrò vedere la reazione per conoscere la sua eventuale risposta a Sandro Veronesi che ha scritto, l'autore di Colibri per indicare l'ultimo suo libro, che ha scritto a nome di questo gruppo così variegato, così anche sorprendente per certi aspetti di artisti, per vedere come lui ha risposto. Quindi io penso che sicuramente lui risponderà ma chiederò io a lui anche, essendo, conoscendo io molto bene anche Sandro Veronesi, di poter rispondere anche a nome suo. Ecco in questa luce credo che però sia stato un gesto molto significativo e qui si può ritornare al grande remoto 1964 con Paolo VI quando lui diceva ritorniamo ancora ad incontrarci, ritorniamo ancora a parlarci perché noi abbiamo bisogno di voi e anche voi per non perdervi nelle cose secondarie avete bisogno dei grandi simboli e dei grandi segni della spiritualità.